Domani la Triestina giocherà un amichevole in Slovenia contro il Copper, calcio d'inizio allo stadio bonifica alle ore 20. Il match sarà un momento utile per entrambe le formazioni per testare la propria tenuta fisica e tattica in vista dell'avvicinamento dell'inizio dei rispettivi campionati. In Casa Rosola Bardata non è mistero che i lavori siano in corso anche per il completamento della Rosa, vedi le parole di Mr. Tesser che dopo la partita contro la Pro-Gorizia aveva palesato la necessità di ulteriori rinforzi dal mercato. Fra gli elementi maggiormente utilizzati in questo pre-campionato c'è il centrocampista Lamine Fofanà che proprio al termine del confronto nell'Isontino aveva espresso le sue impressioni di queste prime settimane di preparazione. Abbiamo tanti giocatori nuovi e il retiro ci ha servito a fare un po' di conoscenza e cercare di formare una squadra e cercare di iniziare questo campionato al meglio possibile. Però questi ultimi giorni, questi due settimane di ritiro ci ha servito tanto a cercare di condividere bene le idee di mister e cercare di essere una squadra compatibile. Fofanà ha speso parole di stima e fiducia nei confronti di Mr. Tesser. Il mister, non sono io a dire chi è il mister, però il mister è una persona per bene, è una persona soprattutto un uomo che cerca di aiutarci perché comunque siamo un bel po', siamo una squadra giovane e cerca di aiutarci a livello caratteri, a livello di tattica, cercare di far vedere le sue idee, qualcosa ha bisogno, comunque di cercare di aiutarci. Infine Rebus sul suo ruolo, centrocampista che intende portare energia a prescindere dall'esatta posizione in campo. Dare quantità, qualità a centrocampo e cercare di aiutare i miei compagni. Dove mi mette il mister io sono a disposizione.